Sei donna, sei mesi, novità strabilianti, ho fatto i calcoli a gennaio, non ci può anticipare qualcosa d'altro? Allora, tu sei donna. Allora, ragazzi, la novità me la ispira lei. Non mi riesce di parlare una lingua chiara col presidente nostro della FIGC a Bete. Non so perché non si amano a sufficienza le donne, ma le donne amano il calcio. Allora io voglio fare una squadra del Napoli femminile, fantastica, che giochi al San Paolo, ma in una squadra di professioniste, non di dilettanti come esistono oggi e non hanno i soldi per pagarle. Direi che è il momento di far vedere